eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi torniamo a parlare di call of duty legends of war il nuovo titolo mobile sviluppato per piattaforma ios e android della tencent che sicuramente molti di voi ricorderanno e conosceranno per pubg mobile e per fortnite mobile titolo allo stato attuale soltanto disponibile nel territorio cinese in versione beta allo stato attuale praticamente beta chiusa quindi il gioco ancora non si può testare tre importanti notizie sono arrivati in questi giorni sono state riportate dal profilo twitter di call of duty legends of war sono state introdotte all'interno del gioco nuove skin e quindi nuove mimetiche potremmo vedere ad esempio la nuova mimetica della ks 74u del fucile da cecchino as 50 della mitraglietta ptv 57 e del fucile d'assalto la k117 queste sono alcune delle nuove mimetiche sono state introdotte all'interno del gioco è stato introdotto anche un nuovo fucile da cecchino l'intervention quindi uno dei fucili da cecchino più famosi della storia di call of duty quindi introdotto anche questo all'interno del titolo e cosa molto ma molto interessante è in arrivo una nuova beta per il gioco sembrerebbe che in cina dal 28 al 29 di dicembre quindi da domani e dopodomani ci sarà una nuova beta del titolo però soltanto per il territorio cinese quindi purtroppo ancora non potremmo provare qui in europa la versione mobile di call of duty legends of war lo stanno testando veramente molto bene sul territorio cinese quindi nuova beta al 28 il 29 di dicembre e si vocifera che già da gennaio dovrebbe arrivare qui da noi la versione android e la versione ios non sappiamo se in versione definitiva oppure sempre in versione beta vi farò sapere comunque tornerò a parlare di questo titolo perché come vi dicevo nei giorni passati è veramente molto importante e molto interessante questo gioco perché contiene tantissimi contenuti dei precedenti call of duty di call of duty 4 modern warfare di black ops 2 di mv perché troveremo capitano price ghost troveremo hijacket troveremo nuke town e troveremo addirittura shipment e quindi tantissime cose del mondo di call of duty in questa versione mobile di cui vi terrò aggiornati settimanalmente qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo con il prossimo appuntamento del tg informativo di call of duty